il cervello mi si è quasi congelato lo senti vero aia non è la mia faccia a dire il vero sono già bello caldo grazie ehi apri vieni a vedere è l'illuminator presto sciacchi però che grande di palle di neve gli atti leggero sono in pericolo non state veneri come gli uomini da giardino hanno già superato le nostre difese alle catapulte presto ti sei cacciato in una bella battaglia a palle di neve non è vero da avrei sei tu ragazza agli skylander serve l'illuminator e io so che non lo presteresti al primo arrivato non preoccupatevi povere testoline vi aiutiamo noi pronti alla riscossa boom allora ce lo prestate quell'illuminacidente o no? facciamo così se gli skylander tolgono di mezzo quegli scatena fera possono avere l'illuminator con i miei ringraziamenti oh beh d'accordo ma prima vi conviene spargere del sale qui intorno c'è il rischio di scivolare e anche di farsi male